28 marzo 2018 Milano Gianmarco Pozzecco, 45 anni, ha giocato alla fortitudo dal 2002 al 2005. Ippi-ipi sfumeggiante come sempre, irrefrenabile, uno dei pochissimi personaggi del nostro basket mai banale, genuino, da copertina. Gianmarco Pozzecco da ieri nuovo allenatore della fortitudo Bologna in A2, la sua amata F. La chiamata alle armi, con contratto fino a giugno 2019, arrivata mentre si trovava a Formentera. Sto chiudendo i trolley per tornare in Italia, Boniccioli mi ha chiamato e spiegato tutta la situazione offrendomi il suo aiuto. La F era in buonissime mani, ora devo solo completare il suo percorso. Cosa stava facendo a Formentera? Molti penseranno, nulla. Ingrati, giocavo nella Lega Amatoriale di Ibiza. Ci siamo qualificati per i play-off che cominciano l'8 aprile. Avrei intenzione di chiedere alla F l'Escape Ibiza, tipo come fece Edmundo con la Fiorentina per andare al Carnevale di Rio. La fortitudo, o una scelta dettata dal cuore, dal profondo del cuore. Quando giocavo a Varese il mio sogno era di indossare la canottiera della fortitudo. Da giocatore, prima di firmare per Capodorlando dove ho chiuso la carriera, dissi no al patron della Virtus, Sabatini. Mi voleva a tutti i costi, ma rifiutai perce con quella maglia proprio non mi vedevo, sono uno emozionale, a certi valori ancora ci tengo. Sulla gazzetta di oggi l'intervista integrale al nuovo coach F.O.R.T.U.D.I.N.O.